Al Teatro Gobetti va in scena lo spettacolo Dante tra le fiamme e le stelle, scritto e interpretato da Mattias Martelli, con la regia di Emiliano Bronzino e con la consulenza storico-scientifica di Alessandro Barbero. Le repliche dal 29 novembre al 4 dicembre saranno accessibili tramite sopratitolazione in italiano e in italiano semplificato su smart glasses e smartphone forniti dal teatro e tramite audio introduzione. Il tour tattile si terrà venerdì 2 dicembre alle ore 18. Lo spettacolo è in programma da martedì a domenica con i seguenti orari, martedì, giovedì e sabato ore 19 e 30, mercoledì e venerdì ore 20 e 45, domenica ore 15 e 30. La durata è di un'ora e venti minuti senza intervallo. Dante tra le fiamme e le stelle è un monologo scritto e interpretato da Mattias Martelli con l'accompagnamento musicale della violoncellista Lucia Sacerdoni. Lo spettacolo inizia dalla battaglia di Campaldino del 1289, in cui si affrontano Guelfi e Ghibellini. Tra i combattenti vi è un giovane Dante Alighieri che rimane sconvolto dalle scene sanguinarie di quel giorno. Mattias Martelli racconta diversi episodi della vita di Dante, ma dà anche voce alle persone che di quella vita hanno fatto parte, come il padre di Dante e altri poeti dell'epoca. La presenza costante della violoncellista sul palcoscenico simboleggia l'amata Beatrice. Martelli ci mostra la società del 1300, mette in luce l'aspetto più umano del poeta e restituisce con freschezza la lingua parlata da Dante e il suo modo di usarla. La scena è minimale e scura, illuminata all'occorrenza da poche luci fioche. Sul palcoscenico sono presenti dei trabattelli mobili su ruote, con ripiani formati da assi di legno. Una lunga scala arrugginita, che l'attore sale e scende più volte, collega il piano inferiore dei trabattelli a quello superiore. A terra, al centro della scena, si trova una grossa campana che verrà poi sollevata in aria. Sulla destra, per tutta la durata dello spettacolo, siede la violoncellista che accompagna con la sua musica alcuni passaggi del monologo. L'attore indossa un paio di pantaloni neri con toppe ricamate sulle ginocchia e una camicia colon ruggine con maniche a sbuffo arancioni. Il suo costume ricorda quello di un giullare medievale. In alcune scene, l'attore indossa una maschera tipica della commedia dell'arte. La violoncellista ha pantaloni e camicia chiari, scarpe con il tacco basso e capelli raccolti in una treccia. La sua persona ricorda una figura angelica. In alcuni momenti, la donna rappresenta proprio la Beatrice, amata da Dante. Mattias Martelli è attore, performer e autore di testi teatrali e di un libro di poesie comico-satiriche. Nella sua carriera ha ricevuto moltissimi premi letterari e teatrali. Nei suoi spettacoli usa spesso la satira e gli elementi tipici della tradizione giullaresca del teatro popolare, riproponendoli in chiave moderna. Emiliano Bronzino è il direttore artistico della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani e dal 2017 dirige il festival Asti Teatro. Regista internazionale, ha lavorato in Francia, Russia, Cina e Spagna. Per ricevere maggiori informazioni su orari, prezzi e modalità di accesso e per prenotare la partecipazione ai tour tattili, contattaci all'indirizzo accessibilità-teatrostabile-torino.it o al numero 011-5169-460. Per organizzare al meglio la tua accoglienza, ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti, contattandoci e specificando eventuali necessità all'indirizzo biglietteria-teatrostabile-torino.it o al numero 011-5169-555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e, in caso di necessità, l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio.